In comune hanno lo stesso nome, la stessa passione per lo sport e l'attenzione verso i problemi legati alle diverse disabilità. Uno è Walter Groppi, campione del Giro d'Italia di handbike nel 2015, l'altro Walter Bulla, sponsor di molte squadre sportive. E così quando l'amico Groppi gli ha fatto presente che per la prossima sfida avrebbe avuto bisogno di un simulatore di prestazioni da utilizzare a casa per allenarsi al meglio, Bulla ha risposto come sempre con la sua sconfinata generosità. Certo, a Walter dopo la vittoria del Giro d'Italia con una grande prestazione avevo promesso questo regalo, questo simulatore di prestazione da usare in casa per allenarsi al meglio. Tu lo vuoi vedere ancora così? Esatto, sì, nel senso che lo vogliamo vedere vittorioso nelle prove anche perché porta sempre Piacenza a livelli importanti. ma nello sport per disabili. Come funziona questo simulatore? Allora questo qua diciamo che è un rullo evoluto, diciamo che ha un freno elettromagnetico dove poi ci attacco la mia handbike e da lì posso impostare la potenza che desidero. Non so se faccio un esempio, devo fare 10 minuti a 150 watt, lo imposto a 150, così riesco a fare i miei allenamenti, quello che mi dice il mio preparatore. È importante per la tua attività? Sì, allora me l'ha consigliato il mio preparatore, quindi diciamo che è una novità per tutti, anche adatto per le handbike, quindi ho chiesto a Walter che è una persona speciale, se poteva prendermelo e sono molto contento. I tuoi prossimi impegni? Farò il campionato europeo, quindi la prima tappa è a Abu Dhabi anche se in Asia, poi c'è la Francia, Austria se non le ricordo tutte bene, però dai a Abu Dhabi il 20 di marzo, poi subito dopo la Francia il 26, quindi mi sto impegnando al massimo per far bene, dai. Da amanti noi dello sport e abitanti di Villanova, ovvero luogo in cui giace questo centro per disabili, abbiamo diciamo coniugato le due cose, insomma, quindi l'amore per lo sport e comunque un occhio di riguardo a queste persone. E' una pagina della mia vita che voglio dimenticare, voglio...